Benissimo a tutti ragazzi, sono sempre io, pochi, e oggi vi do il benvenuto in seconda parte di DemoDev. Come speciale per il centesimo anniversario di PS1. Allora, iniziamo subito. Cosa esce? Colin McRae Rally. Ah sì, ecco. Scusate se ho messo un'altra volta Gran Turismo, però mi ricordo che l'avevo giocato... Nel Super Ritorno al Futuro, ho dedicato il mio compleanno. Vabbè. Eccoci qua ragazzi. Il Colin McRae Rally. Ok. Continuiamo. Vabbè. Non mettiamo il mio... Non mettiamo il mio nome perché... Tanto qua sta soltanto un bellissimo gameplay. 5... 4... 5... 3, 2, 1, GO! Siamo pronti. E' bello che possiamo fare delle rapate. Intanto qua sono macchine da rally. Allora, aspetta. Allora, aspetta. Oh. Allora. Dai. Eh. Allora. 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 Dai. Allora. 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 ...to right, opens. What the hell? Grazie a tutti. Sto facendo schifo. Forse perché nel rally non è che sia molto bravo. Sto facendo schifo. 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 Allora non lo so se questi fanno... Questi frutti fanno parte del gruppo, o meglio che è un livello 1 Ah no, ecco li devo evitare, è così No Lo sta facendo tutti perché, tutti per caso che ho mancato No No Ok Molto bene No 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 E' il primo pompa. Il hate breakers. Grazie per la visione! 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 Ok! Ok, si riparti! E abbiamo fatto la Nazi primo livello completato, facciamo anche il secondo. Ciao! No! 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 So four would be less, do you know? Start! No! Game over! Sì, sì, sì. come up 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 no, no, i stepped in i think yee-haw Molto bene, vedete anche BOMBEMENGUAZI SALUTTA LA Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Sì, vediamo un po', vediamo un po' Sì, 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 vediamo un po' Sì Sì, vediamo un po' Sì Sì, vediamo un po' 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 Sì Sì Sì, vediamo un po' Sì, vediamo un po' Sì, vediamo un po' Sì 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 Bene, ultima cosa qua c'è una seta alle auto, c'è una PTO 95, una SDR XT Type FB, una Lega 5C 6P, una NSX 1993 e una NR22 S. Un nuovo Apple. Allora, come mettiamo il nome? Bene ragazzi, io direi che con un gran ritmo ho concluso la seconda parte di Demo Death. Spero che i video vi è piaciuto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!